Il prezzo a bottiglia più alto dei vini che normalmente si usano in questo tipo di locali se facciamo un confronto con il Prosecco che è il vino di gran lunga più usato dai giovani c'è una differenza a bottiglia di 3 o 4 euro o anche di più con l'erbaluce spumante che potrebbe essere l'analogo del Prosecco e quindi occorre fare uno sforzo per far conoscere e percepire la qualità di questi vini al largo pubblico che magari è attratto più appunto da altre cose come il prezzo, come la disponibilità, le quantità che altri vini hanno il nostro sforzo è proprio in quella direzione abbiamo incontrato qui la disponibilità intelligente di un gruppo di locali di proprietà dei locali che vuole lavorare nella stessa direzione e l'abbiamo colta al volo